Siamo con i vincitori del concorso. Tu sei? Marilena Chiappetta. Marilena, ci vorresti spiegare questo concorso? In che cosa consiste? Sì, allora, l'università ha detto un concorso, un bando di concorso, praticamente per Roma 2 Expo, che sarebbe la rappresentazione del sito, del logo e dello slogan dell'università all'Expo 2015 di Milano. Perfetto. Ognuno di noi ha fatto qualcosa, io ho fatto il logo, lei ha fatto lo slogan e lui il layout del sito e siamo risultati i vincitori. Perfetto, tu sei invece? Alessia Bolla. Alessia Bolla. Michele Borretta. Qualche vostra impressione su questa giornata, emozioni? Sì, emozioni, contenti di esserci conosciuti perché prima non ci conoscevamo, soddisfatti di aver vinto perché siamo riusciti a dimostrare creatività, sicuramente, e anche che l'università fa bene. Giornata bellissima, tanta emozione e soprattutto l'emozione c'è quando abbiamo saputo che la collaborazione non finisce qua, ma che ci saranno altri progetti per aiutare l'università ad Expo 2015. Perfetto, grazie e complimenti ancora. Grazie. 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 Grazie.